di ringraziamento attestano la validità del suo lavoro Chiediamo a Silvia di raccontarci la sua storia, cosa ricordi di quel periodo? Di quel periodo l'unica cosa che ricordo in questo momento è il mio incontro con il Mago Letterius perché ero arrivata a un tale punto dopo anni, ci si adatta a credere anche a cose in cui fino a quel momento non si è mai voluto credere ho visto la pubblicità del Mago Letterius sull'elenco telefonico e ho detto vabbè proviamo anche questa strada perché ero veramente disperata ho telefonato, mi ha fissato un appuntamento e c'è stato un primo incontro con il Mago Letterius molto emozionante per me perché è stata l'unica persona che è stata capace di sviscerarmi un qualcosa dove ci ha toccato un punto di me, della mia anima dove non era mai arrivato nessuno e con un consulto di carte è riuscito a leggere tantissime cose al mio passato che avevo negato anche a me stessa e ripeto è stato un incontro molto emozionante ed è stato l'inizio della mia risalita è stato l'inizio del mio ritorno alla vita quindi non lo so è stata veramente una cosa molto significativa per me grazie a lui se adesso posso dire finalmente di aver ripreso a vivere Predice il futuro attraverso la lettura della mano è un'arte interpretativa secolare attraverso la quale è possibile capire il carattere definire l'abilità e il talento, giudicare la salute, verificare le inclinazioni e valutare le potenziali capacità di un individuo attraverso la lettura della chiromazia ti consiglierà cosa fare per avere un matrimonio migliore e in che modo vincere i tuoi nemici puoi parlare direttamente con il maestro Letterius e fissare un appuntamento riservato più vicino alla tua città puoi contattarlo 335 65 92 908 se trovi il telefono occupato non ti preoccupare le linee sono intasate e se vuoi puoi riprovare in qualsiasi ora del giorno il telefono del maestro Letterius è attivo fino alle ore 21 Letterius è custode di tutti i segreti dell'antica magia è ricercatore del mondo dell'occulto mette a tua disposizione i ritrovati più potenti toglie fatture e malocchio tutta la negatività in ambienti e persone